ciao a tutti faccio questo video per dare una risposta alla domanda di michele torresi il quale mi chiedeva quale tipo di approccio di allenamento deve fare un giovane è una domanda semplice ma molto complessa perché comunque non è facile dare una risposta a prescindere perché un giovane che si avvicina alla palestra bisogna entrare nella psicologia appunto di questo per vedere quale è il suo obiettivo il suo finale la struttura elettrica la sua praticamente morfologia e tantissime cose io che arrivo dalla vecchia scuola era un po un classico ai tempi allenarsi in multifrequenza dove tu i primi tre giorni della settimana riuscivi a fare tutto il corpo e negli ultimi tre ripetevi ma lo facevano tutti quindi non era deciso per una metodologia che si riteneva valida io ho scoperto la monofrequenza molto più avanti comunque a prescindere da ciò bisogna vedere come dicevo l'obiettivo perché l'obiettivo è quello che fa la differenza perché se il ragazzo ha intenzione di diventare grosso detto proprio in termini semplici semplici deve comunque fare delle prove su se stesso perché ogni persona ha una reazione diversamente all'allenamento io per esempio ero portato per fare ripetizioni da otto o dodici c'è gente che invece preferisce lavorare più pesante c'è gente che preferisce lavorare oltre 15 comunque tutti i sistemi sono validi bisogna trovare diciamo il tuo quello personale che ti trovi meglio e quello è già una cosa interessante perché l'istinto comunque non bisogna ascoltarlo quello dipende molto anche dal tipo di fibra che abbiamo c'è chi è più portato per una fibra veloce quindi classico forte di natura invece magari la persona che è più meno adottata a livello di forza quindi riesce a lavorare meglio con altre ripetizioni poi il discorso della multifrequenza o monofrequenza si può fare dei tentativi ci sono dei personaggi che vanno meglio con la monofrequenza perché hanno bisogno di un recupero molto più lungo e di conseguenza hanno magari un risultato migliore provando passare la multifrequenza magari vanno più in catabolismo quindi è da evitare invece altre persone che hanno bisogno della multifrequenza proprio perché non basta con l'allenamento che si è fatto però ripeto sono sempre cose molto personali da provare io personalmente cosa stranissima oltre 60 anni ho migliorato le gambe tornando alla multifrequenza negli ultimi anni ho sempre allenato in monofrequenza da quando le ho riportate in multifrequenza due volte alla settimana complete perché parliamo di quadricipiti e femorali sono riuscito a migliorarle nonostante l'età quindi per i maligni che magari parlano di doping o non doping perché questo io so già e prevengo la domanda il doping c'era prima e c'era dopo e c'è stato dopo quindi non è questione di dopo in questione proprio di allenamento e io credo molto nell'allenamento io penso che l'allenamento sia la cosa importante e da dare precedenza il doping è solo un aiuto per chi gareggia e lì si potrebbe aprire un altro discorso ma si potrebbe fare a parte non voglio fare questi discorsi adesso poi potrei portarvi l'esempio di famoso campione Sergio Nubre che si inventò quel metodo chiamato appunto metodo Nubre ma non è che se lo inventò così per caso perché funzionasse il fatto è che Nubre i primi anni di allenamento fino ai 30 35 anni è stato uno di quelli che ha usato i carichi pesanti quindi ha usato i carichi pesanti però quando si è trovato con le articolazioni dopo i 40 anni molto logore i primi dolori ho dovuto inventarsi questo famoso sistema Nubre che era basato su tantissime serie e tantissime ripetizioni alte parliamo di 20 25 ripetizioni tempi di recupero abbastanza bassi e molte serie quindi questo è il famoso metodo perché comunque non poteva più permettersi di fare dei carichi pesanti e poi ha funzionato l'ha provato anche con i suoi atleti è comunque un metodo valido perché poi diciamo che l'obiettivo dell'ipertrofia può avere diversi percorsi per esempio il più drastico di tutti quello l'ave duty di Mike Mansell prevedeva di allenarsi in breve tempo con carichi pesanti e abbassare il famoso ATP in breve tempo mentre Nubre magari passava da una strada più lontana è come arrivare allo stesso percorso facendo due strade completamente differenti ma tutte e due con lo stesso obiettivo quindi non è detto che una sia meglio dell'altra e poi in mezzo immaginiamo questi due percorsi come uno all'estrema per usare termini politici uno all'estrema destra l'altro all'estrema sinistra però con tutti gli altri metodi anche in mezzo che funzionano però tutti hanno l'obiettivo di arrivare all'ipertrofia quindi non è che uno sia meglio dell'altro e un giovane alla tua domanda Michele l'importante è sapere anche per esempio se sono studente oppure se lavora quindi anche questo è importante perché c'è un dispendio energetico maggiore su chi lavora la disponibilità se un giovane ancora in famiglia quindi più controllato dai genitori quindi non riesce a fare un'alimentazione corretta come dovrebbe perché a volte i genitori non ti aiutano invece se da solo riesce a farla e questo è anche importante è una componente importante questo quante volte si allena e questo è anche un discorso molto importante nel senso che se mi alleno due volte a settimana sappiamo benissimo che non è che serva molto quindi il problema è vedere quanto ha di dedizione questo giovane e poi la genetica la genetica ha la sua importanza perché purtroppo le nuove generazioni ho visto che da mio nonno mio papà e io siamo tutti alti uguali già i miei figli sono molto più alti ma non solo nel mio caso quasi tutti i miei amici hanno i figli più alti queste nuove generazioni dagli anni 90 in su sono molto tutti più alti a discapito quindi della massa muscolare sono molto più longilini più magre di tutto quindi anche un po più difficile per loro mettere su massa poi ci sono delle statistiche che dimostrano che ci sono personaggi che appena toccano un peso tac mettono su muscoli altri che invece si allenano ne sono conosciuti tantissimi che si allenano da anni fanno l'alimentazione corretta si allenano pesantemente e non hanno risultati questo purtroppo non ci si può fare niente è la natura che fa la selezione conoscevo un mio coetaneo tra l'altro di Torino che appena toccava un peso da natural quindi parliamo di un discorso senza dopi aveva dei risultati tanto già da destare sospetti ma io garantivo posso garantire che era natural come ho conosciuto gente che si è riempita di steroidi ma da far paura proprio da rischi e non avere risultati quindi vedete che a volte di cosa stiamo parlando tanti puntano sempre il dito al doppio ma io veramente ho conosciuto gente che si è doppata tanto non ha avuto risultati quindi lo diceva già Fausto Coppi ai suoi tempi che i loro tempi le chiamavano le droghe le bombe ai blocchi non servono se non c'è una genetica di base se abbiamo un centometrista che di natura lui fa già dieci e cinque e usa del doppio può scendere sotto i dieci molto molto facilmente ma se noi diamo del doppio a un velocista che fa undici secondi potrà arrivare a dieci e cinque ma non sarà mai un campione ecco quello che voglio dimostrare la differenza e nel bodybuilding è la stessa cosa quindi a volte appunto hanno detto ecco quello lì è così perché non è proprio così non è affatto così il bodybuilding esiste il doping ma fa parte di un ingrediente di tanti ingredienti come una torta con tanti ingredienti quindi se non c'è la genetica se non c'è l'allenamento se non c'è l'alimentazione corretta se non c'è il riposo il doping non serve a niente e poi ripeto ci sono dei personaggi che non gli fa niente proprio purtroppo purtroppo è una cosa a dire poi le altre domande che mi chiedevi ripetizioni te ne ho parlato carichi alti e bassi beh carichi alti e bassi proprio dipende dal sistema io offrirei fare per esempio la prova di fare i carichi pesanti un periodo carichi pesanti intendiamo sei otto ripetizioni con delle cupoli da due minuti anche tre minuti facendoli sempre però su esercizi biarticolari tipo la distensione su panca i manubri mai fatti per esempio su un'estensione cioè la differenza tra la distensione e un'estensione per esempio quando faccio i tricipiti tipo panca strezza faccio una distensione invece faccio un french press faccio un'estensione quindi carichi pesanti che sono più pericolosi sia per strappi che anche diciamo l'articolazione che si può usurare quindi carichi pesanti e sempre con bilancieri manubri è meglio delle macchine se poi dopo parliamo di carichi leggeri di leggeri si intende da 15 ripetizioni in su però per arrivare lì magari è meglio fare prima il sistema pesante quello che invece sottolineerei ecco che aggiungo io che vedo troppi giovani affidarsi ai social dove vedono campioni che si allenano e quindi copiano molto gli esercizi una volta in palestra esisteva il classico istruttore di sala che seguiva tutti e quindi era un po' difficile anche sbagliare perché c'era questa persona appunto di riferimento che insegnava a tutti adesso con la scusa che ci sono tutti i personal trainer non c'è più l'istruttore di sala chi è seguito da personal trainer si spera che sia un personal trainer preparato quindi che sia caduto in buone mani altrimenti sono allo sbaraglio questi ragazzi allo sbaraglio che di solito vedo sono sempre gracilini, magrini che fanno per esempio uno dei classici esercizi che vedo fare a tutti la croce con i cavi non serve niente io a volte le vedo se sono in confidenza gli dico guarda non ti serve niente questo esercizio inizia a creare un pettorale importante con manubri e bilanciere come si faceva una volta quegli esercizi di contorno come può essere la pectoral machine o le croci le puoi inserire in domani che hai già due pettorali importanti e magari decidi di fare una gara ma se sei secco scusate il termine non puoi pretendere che con i cavi incrociati o la pectoral machine o la fly che ti cresca il pettorale è chiaro che lo senti lavorare ma non ha quella rottura delle fibre che può avere una distensione su panca alta, piana e declinata io sono un pochino legato quei vecchi esercizi della old school ma sono quelli che servono una volta non avevamo tanti macchinari pure c'erano dei bodybuilder che erano perfetti esteticamente tutti quelli che adesso più o meno hanno 50 alcuni anche la metà non hanno usato le macchine parliamo anche di professionisti del mister olimpia è la stessa cosa non è che loro avessero delle macchine particolari eppure avevano dei fisici direi addirittura meglio di quelli di adesso adesso c'è sta mania che i giovani appunto copiando dai social vedono i campioni che si allenano con queste macchine questi esercizi le fanno per emulazione ma sinceramente non sanno neanche per cosa fanno non sanno perché le fanno ecco perché io sono del parere che un istruttore in qualsiasi sala ci vorrebbe oltre il personal trainer perché si può permettere il personal trainer è giusto che lo faccia però purtroppo questo è uno sbaglio dei ragazzi visto che mi chiedevi e ne vedo tantissimi lavorano tanto con i macchinari coi cavi queste cose qua a posti di usare bilancieri manubri sono più per queste cose qua che sono la base io penso di aver detto un po tutto poi se c'è qualcun altro che vuole fare altre domande magari andiamo più sullo specifico e quindi questo qui era una diciamo un video in risposta a Michele Torresi che ha fatto questa domanda molto generale diciamo sui giovani che poi a questo punto direi che va bene anche per i più maturi perché uno può anche iniziare a fare palestra a una certa età che può essere 30 35 anche 40 anni ho visto anche gente iniziare oltre e quindi vanno anche questi personaggi devono fare il suo percorso da principiante come ne devono fare tutti quindi fare il principiante se sei un principiante devi fare il principiante a me è successo in passato di aver fatto una scheda di allenamento quando avevo ancora la mia palestra a un mio cliente e poi diciamo come ricordo una settimana dopo vederlo fare altri esercizi che io non gli avevo dato e parliamo del periodo che non c'erano ancora i social parliamo del periodo che c'erano solo le riviste mensili di bodybuilder che arrivavano dall'america c'era anche quella in italia allora gli chiesi ma come mai fare ah ho copiato la scheda di dorian yates dalla rivista e io ho detto vabbè guarda che dorian yates è un professionista per arrivare a fare queste schede ci sono tanto tempo di allenamento e anche altre cose quindi cercavo di spiegarglielo perché non serviva niente non è che se io faccio la scheda di dorian yates divento come dorian yates però aveva 17 anni quindi anche un po' comprensibile però succedeva anche questo purtroppo e niente era solo un esempio per dire quanto a volte un po' l'ingenuità e anche un pochino la stupidità dei ragazzi e giovani porta a fare degli sbagli e la colpa è anche il fatto ripeto sono molto ripetitivo però della mancanza dell'istruttore di sala che comunque era un riferimento per tutti va bene un saluto sono a disposizione per eventuali altre domande ciao a tutti